Abbiamo subito recuperato anche questo caso indice, come in qualche modo si suol dire, che era la persona che era tornata dalla Cina il 21 di gennaio. Questa persona è al sacco in questo momento, gli abbiamo fatto subito i controlli, stiamo aspettando, però è una persona che sta bene, che in tutto questo periodo non ha mai lamentato salvo una leggerissima febbre un giorno, ma un dato estremamente trascurabile, che è una persona che stava bene e sta bene. Nel corso abbiamo quindi individuato e fatto una ricognizione, come si dice, schedato, abbiamo iniziato a fare i tamponi a 150 tra operatori sanitari, medici, parenti stretti di questa persona e abbiamo tra i parenti stretti di questa persona la moglie che è risultata anch'essa positiva al coronavirus, anche se le sue condizioni in questo momento sono positive. Ieri sera è emerso un terzo caso di una persona che è stata portata a autoambulanza, sempre all'ospedale di Codogno, con una polmonite che è emerso essere coronavirus e che era una persona che condivideva delle attività sportive con il nostro paziente 1. Quindi avevano un contatto diretto e per questo ha avuto questo risultato positivo.